Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL lunedì. Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Questo è l'ultimo prima di un'enorme pausa, perché a settembre mi sposo e a ottobre vado in viaggio di nozze, quindi ci rivediamo forse a fine ottobre. Mi spiace mancare pertanto dal canale, ma ragazzi è necessario, ho proprio bisogno di staccare. Sono qui per dirvi che cosa ho finito, cosa sto leggendo, ma soprattutto per fare anche una bella TBR insieme e vedere poi a ottobre a che punto saremo. Se avrò letto quei libri, io vorrò anche dimenticarmela, non voglio metterla da parte. Cioè di solito quando faccio una TBR faccio anche la piletta relativa perché magari vedo quella piletta e prendo prima i libri da là. Questa volta no, ho intenzione di rimischiarli all'interno della libreria dei libri da leggere e vedere un po' dove mi porta il cuore. E vedremo poi magari insieme quali ho tolto e quali no. Prima di tutto, ultimo libro letto, in realtà è un audiolibro ed è La melodia del cuore di Julia Quinn. Vi avevo già detto la settimana scorsa che l'avevo iniziato, è il secondo volume della saga Lindon. È una idiozia, però è simpatichello. C'avevo bisogno, ho sempre bisogno di cose d'amore, cose leggere, cose simpatichelle. Quindi se volete un'altra roba, la Bridgerton, scritta ovviamente peggio rispetto alla serie, può essere un'idea carina. Anche perché alla fine parla sempre di un'altra ragazza che è figlia di un vicario, di un altro conte e di una sorta di matrimonio di convenienza perché entrambi hanno degli interessi, lei vuole andare via di casa, lui vuole mantenere la propria eredità e solo sposandosi potrà mantenerla e quindi decidono di sposarsi, di comune accordo. Ma ovviamente ci sono varie problematiche di quando due persone che non si conoscono si sposano. Simpatico. Niente di trascendentale però. Poi veniamo leggendo. Ho iniziato il coccodrillo di Dastoyevsky e mi ha fatta ammazzare delle risate. Ho letto soltanto le prime 20 pagine, ecco neanche 18 pagine. Una delle parti più simpatiche che per ora mi sono piaciute è la nota numero 1, in questo che lo metto qua, che equivale al prologo. Perché nel prologo la rivista mette le mani avanti dicendo sì, questo articolo di un uomo che viene divorato da un coccodrillo intero e che vivrà all'interno del coccodrillo, dicono che sia vera. Però siamo andati allo zoo e hanno detto che non è mai capiato. Abbiamo controllato le fonti dell'autore e non esistono. Abbiamo fatto quest'altro e non ci sono prove. Quindi vi dico qual è la loro scelta definitiva. Giunti a questo punto, non ci restava che una sola cosa da fare. Credere a tutto e decidere anche se controvoglia, ma comunque secondo coscienza che lo sconosciuto che ci aveva trasmesso il manoscritto non poteva mentire e che dunque tutto quello che ci aveva consegnato era vero. Questo mi ha fatto pensare a Kundera, a quello che vi raccontavo l'altra volta, ossia al fatto che i russi non hanno avuto l'illuminismo, diciamo, non hanno avuto la rivoluzione francese come elogio della ragione sull'emotività e quindi è per quello che la maggior parte dei libri russi si basano sull'irrazionale. Ok, mi hai dato tutte le prove possibili e immaginabili che questa cosa non sia esistita, ergo ci credo. È super interessante, da che ho letto quel libro di Kundera che è Jacques e il suo padrone in cui lui ci raccontava di quando i russi sono arrivati a occupare la Repubblica Ceca, ci ripenso spesso solo quel pezzetto di prologo. Perché mi ha aperto un mondo, perché mi ha fatto comprendere per quale motivo io amo i libri russi, perché sono imprevedibili ed è anche il loro umorismo ad essere imprevedibile. Per ora mi sta piacendo tantissimo, poi vediamo come si concluderà, come proseguirà. Il tono è molto simpatico, il libro è davvero breve, ci sono tantissime note e c'è anche una postfazione. Quindi spero di finirlo e ricordarmelo per quando ci rincontreremo, ma penso che prenderò tutti gli appunti del caso per non dimenticarmi quello che mi sarà piaciuto o meno. È il momento della TBR. Il primo libro che vi mostro è Boy di Roald Dahl, perché l'ho preso alla libreria Shakespeare & Company l'anno scorso, ma essendo in inglese mi sono sempre fermata da leggerlo, perché voglio leggerlo con criterio, nel momento adatto. Qui c'è il timbro della Shakespeare & Company. Quando vedo questo libro ripenso al viaggio a Parigi, tutto il turbinio di emozioni, della proposta di matrimonio, è stato un viaggio bellissimo, quindi forse non leggerlo prolunga questa emozione, ma non è che leggerlo poi lo farà sparire, sarà comunque nella mia libreria. Dovrebbe parlare dell'infanzia dell'autore di Roald Dahl. Mi hanno anche detto che è bellissimo, quindi non vedo l'ora di leggerlo, sperando di capire per bene l'inglese che contiene. Poi io leggo sempre Elif Shafak e ho preso Il Palazzo delle Pulci un giorno al libraccio, quindi banalmente mi piace l'autrice. Mi sembra di averlo preso a più libri più liberi, mi pare. Comunque ho Crono Rifugio di Gospodinov. Questo dovrebbe essere un libro prevalentemente sulla nostalgia. Chi ha visto Inside Out 2 sa. Adoro nostalgia, adoro. Cioè è proprio un'emozione che adoro tantissimo. E cosa ci dice qui dietro? Ghostin, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una clinica del passato, dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. Ogni piano dell'edificio riproduce nei dettagli un decennio del secolo scorso e la prospettiva di un confortevole rifugio dal presente finisce per allettare anche chi è perfettamente sano. E non dico altro, l'idea di questa clinica del passato con ogni piano con un periodo temporale mi affascina tantissimo. Oltretutto ho ancora questo libro della Italo Svevo edizione Malea Est. A me piace tanto anche l'impaginazione, l'ampio respiro che mantengono. Questa è una utrice rumena, mi sembra naturalizzata italiana, però potrei sbagliarmi. Comunque che scrive in italiano e potrebbe essere una lettura interessante. Sempre sull'onda di Parigi, o Parigi di Julienne Green, che dovrebbe essere banalmente una passeggiata per Parigi, scopriremo insieme di che cosa si tratta. Inizierò a breve al di qua del paradiso di Fitzgerald, perché è il libro di Lenia per luglio e agosto, sempre perché sto seguendo alcuni dei mattoni americani. Credo che questo sarà l'unico che seguirò, perché se non sbaglio poi c'è Faulkner e Steinbeck, che non mi interessano minimamente. Quindi non vedo l'ora di rituffarmi in Fitzgerald, perché alla fin fine io leggo sempre un libro suo all'anno anche di più. E come leggo sempre anche un libro di Virginia Woolf, con la stanza di Jacob di Virginia Woolf, che mi ha regalato Giulietta il compleanno. Spero di rimmergermi nella prosa della Woolf, che io adoro da impazzire. E oltretutto quando lo finirò potrò leggere il saggio che mi hanno regalato le mie amiche su Virginia Woolf, però volevo almeno togliermi tutti quelli che avevo in libreria. Ne ho tantissimi altri da leggere in realtà. Ho anche Amanti e Regine, che potrebbe essere super interessante, o anche L'Ultimo di Falcinelli. Il fatto è che sono saggi quelli che vorrei leggere in periodi in cui faccio gli allello lunedì, perché secondo me ci saranno tantissime chicche da raccontarvi e leggerli in periodi in cui io produco più video può portare tantissime altre curiosità in più da narrarvi. È solo per questo che li rimando. Poi in realtà se mi andrà di leggerli, li leggerò. Ma penso che sarà carino. Ditemi anche la vostra, leggerli appunto in periodi in cui ve ne posso parlare meglio. E poi ne ho parlato 600 miliardi di volte, ma prima o poi lo leggerò su V13 di Carrère. Sia mai che magari è arrivato il suo momento. Mi intriga tanto, perché il Bataclan è stato un enorme trauma per me. Anche se non mi ha riguardato troppo da vicino, lo sapete, ve l'ho detto 90 volte anche soltanto in questo allello lunedì, che Parigi è importante per me. Quindi quello ha reso Parigi un luogo non sicuro in cui andare, nonostante io volessi stare là sempre, già prima. Magari questa inchiesta mi aiuterà ad analizzare meglio il trauma e ad aiutarmi a guarire, non lo so. Comunque siamo stati a Parigi, il nostro albergo a Parigi era vicino al Bataclan e questo mi ha fatto effetto, ma non mi ha terrorizzata come lo ero all'epoca dell'attentato. Questa era la TBR, ditemi se avete voi una TBR, ditemi se avete la mia stessa idea per quanto riguarda alcuni saggi belli cicciotti, se siete più contenti che io li legga in periodi in cui vi farò più video. Spero di, non lo so, di chiacchierare con voi giù nei commenti e di continuare a farlo nei prossimi mesi. Saranno mesi importanti, che però non vedo l'ora di vivere e soprattutto che il matrimonio passi perché sta diventando una tortura, organizzarlo, ma ce la faremo. Io rendo tutto più difficile spesso, sono la peggiore nemica di me stessa, tutte queste belle frasette un po' fatte ma anche molto vere. E niente, non mi resta che augurarvi buona lettura! Ciao!